Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio il Presidente nazionale della Col di Retti, ringrazio il Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio Agromafia, il Dottor Caselli, tutti i relatori per il contributo che hanno dato e che daranno e ringrazio tutti voi per l'attenzione rispetto a un evento come questo, che è un evento molto importante e sono orgoglioso di poter parlare a tanti rappresentanti della magistratura e delle forze dell'ordine che dimostrano l'attenzione che il sistema e il mondo della giustizia rivolgono ad un settore molto importante come quello agroalimentare. Permettetemi di partire da una considerazione che per noi è abbastanza banale ma vi posso garantire non lo è per chi è fuori da questa stanza e cioè l'importanza del settore agroalimentare per tutta la società a 360 gradi ed è un'importanza che deve essere compresa dai nostri cittadini. E purtroppo oggi non è così, quello che diceva prima Matteo è vero, se vai in tv e non parli di TAV o di elementi divisivi ti dicono che si abbassa lo share. E questo è vero perché il cittadino al di fuori da questa stanza non percepisce l'importanza che può avere la lotta ai crimini agroalimentari perché la vede come una cosa distante. Se gli si parla del caporalato il cittadino dice peccato per poveri lavoratori che vengono sfruttati, se si parla dell'imprenditore si parla comunque di un imprenditore in un settore. E invece la prima cosa che dobbiamo dire e lo dobbiamo dire insieme istituzioni e associazioni del settore è spiegare al cittadino che stiamo parlando di quello che quotidianamente sta mangiando. Stiamo parlando di qualcosa che interessa tutti nella misura in cui si parla anche della tutela della salute di quel cittadino oltre che del diritto del consumatore ad avere un'informazione completa e veritiera rispetto a quello che sta acquistando e poi mangiando. Si parla di tutto il settore economico del nostro paese perché quando parliamo di agroalimentare parliamo del made in Italy e parliamo di uno dei pilastri fondamentali del settore economico del nostro paese. E se quel pilastro comincia ad essere vulnerabile, comincia ad essere meno forte, è un pilastro che poi comincia a far vacillare tutto il sistema economico italiano. Ed è con questa consapevolezza che noi dobbiamo affrontare un tema così importante. E da questo punto di vista non ripeto tutti i dati allarmanti che sono stati già comunicati in questa sede in ordine alla diffusione dei crimini agroalimentari, in ordine alla capacità delle mafie di potersi infiltrare all'interno di un sistema così importante. Ma proprio per quanto riguarda l'idea di un intervento che sia a 360 gradi, voglio iniziare da qualcosa che è già stato fatto e che non riguarda il penale. Io mi ero impegnato nell'ultimo invito che avevo ricevuto dalla Col di Retti a Cernobbio, mi ero impegnato affinché la legge, la riforma del diritto fallimentare che doveva ancora essere approvata, rivolgesse una particolare attenzione proprio all'imprenditore agricolo. E questo perché? Perché riguarda quello di cui stiamo parlando oggi? Perché un settore che è economicamente vulnerabile e che è in crisi è chiaramente più vulnerabile rispetto alle infiltrazioni mafiose. E allora lo Stato a quel settore deve rivolgere un'attenzione particolare e così è stato fatto nella riforma del diritto fallimentare, dove l'imprenditore agricolo ha un quadro normativo che è proprio ritagliato sulle esigenze dell'imprenditore agricolo, è prevista la liquidazione controllata che è una procedura liquidatoria semplificata e sono previste le procedure di allerta, attenzione sempre come momento in cui lo Stato di fronte alla crisi dell'imprenditore non sta da un'altra parte e dice vabbè sai c'è la crisi del sistema, no, lo Stato gli sta vicino anche in termini di prevenzione per far sì che quell'imprenditore nel momento della crisi possa essere coadiuvato dallo Stato e vengono istituiti organismi che possono stare a fianco dell'imprenditore per cercare per esempio composizioni delle varie liti che si creano con i creditori per cercare di far rialzare quell'imprenditore in una situazione di legalità, perché l'imprenditore che è in crisi è quasi fisiologicamente attratto dalla possibilità di dar vita a fenomeni ad attività illecite che rendono ancora più vulnerabile lui e sempre più vulnerabile il settore economico e sono orgoglioso di poter dire che con quel intervento normativo diamo un segnale molto importante all'imprenditore agricolo, lo abbiamo già dato, adesso si tratta semplicemente di verificarne l'applicazione e in quel momento diamo importanza al settore economico dell'imprenditore agricolo come pilastro per tutto il settore economico chiaramente dobbiamo, così come avevo già detto a Cernobbio, dobbiamo anche adesso studiare tutte norme che possano nel momento della crisi dell'impresa possono far sì che la sottrazione dell'imprenditore agricolo alla crisi di impresa, al cosiddetto fallimento che oggi non si chiama più fallimento che possano essere delle norme e comunque vadano anche a punire chi nell'ambito degli imprenditori agricoli viola le leggi perché non deve essere chiaramente un momento di sottrazione alla legge, ma ripeto lo si fa sempre con un'attenzione particolare riguardo poi a quello che è il quadro normativo di cui già si è parlato molto io considero la legge sul caporalato un passo avanti, l'ho sostenuto quando ero all'opposizione tanto da considerare proprio quella legge, la conclusione di uno dei pochi procedimenti virtuosi da un punto di vista legislativo che ci sono stati nella scorsa legislatura che hanno visto maggioranza e opposizione lavorare per arrivare a un risultato che considero importante, adesso si tratta di monitorare gli effetti di quella legge e quello che voglio fare è proprio istituire un tavolo all'interno del Ministero della Giustizia per il monitoraggio degli effetti di quella legge e per lo studio delle soluzioni che possano colmare quelle che prima il dottor Caselli ha definito giustamente come voragini e allora senza perder tempo, questo è il mio impegno preciso, far sì che all'interno del Ministero della Giustizia in collaborazione con l'osservatorio e con gli esperti che l'osservatorio potrà mettere a disposizione di questo progetto avere la possibilità di portare avanti quella riforma di cui si è parlato e poterlo fare insieme individuando quelli che possono essere i miglioramenti di questo progetto di legge che già esiste e che rappresenterebbe un ulteriore passo avanti quando parlo, questo ci tengo a dirlo perché quando stavo in platea ad ascoltare un politico e sentivo che veniva usato il futuro, lo leggevo sempre in termini e chissà quando questo avverrà e la cosa è stata giustamente sottolineata anche da Nicola Morra prima quando diceva che non è possibile concepire un disegno di legge adesso e approvarlo fra due anni da questo punto di vista il mio impegno è a far partire il tavolo entro pochissimo tempo possibilmente entro il mese di marzo ecco un altro punto importante chiaramente e io ringrazio tutte le forze dell'ordine perché un aspetto positivo è l'impegno nonché chiaramente ripeto tutti i rappresentanti dell'autorità giudiziaria e della magistratura un aspetto molto importante è l'efficacia con cui vengono portate avanti poi vengono applicate queste leggi e portate avanti le lotte al crimine organizzato nel settore agroalimentare e sicuramente effetti positivi ci sono nell'efficacia che è stata già più volte sottolineata di alcune azioni che sono state portate avanti è compito dello Stato continuare a fornire però agli inquirenti gli strumenti per poter far sì che queste azioni siano sempre più efficaci considero le intercettazioni come tutti sanno uno strumento fondamentale noi abbiamo già bloccato la riforma che era stata concepita nella scorsa legislatura perché la consideriamo un indebolimento e adesso stiamo lavorando, mi fa piacere dirlo in questa sede ad un progetto all'interno del Ministero della Giustizia ci lavoriamo già da tempo che possa rendere ancora più forte questo strumento che è fondamentale nella lotta alle mafie chiaramente si tratta di politiche su cui il governo è impegnato come diceva prima Matteo Salvini ma anche il Ministro Centinaio anche Luigi Di Maio per quanto riguarda le politiche del lavoro si tratta, lo ribadisco, di portare avanti politiche in cui il governo compatto cerca di proteggere anche economicamente il settore dell'impresa per esempio cercando di scoraggiare tutte quelle politiche che tendono a scaricare il lavoro dell'impresa sui lavoratori, sul risparmio del lavoratore e da questo punto di vista come ha già anticipato più volte Luigi Di Maio ci saranno politiche che finalmente tuteleranno i lavoratori diminuendo e l'auspicio è di cancellare addirittura ogni margine di spazio che possa esserci per qualsiasi forma di sfruttamento permettetemi poi di sottolineare alcuni punti più generali ma che rappresentano la cornice centrale all'interno di tutte le riforme e degli interventi normativi che possiamo portare avanti uno lo faceva prima riferimento il Presidente Fara sul discorso della Convenzione di Palermo che è un punto molto importante la Convenzione di Palermo del 2000 era stata concepita e portata avanti come progetto iniziale da Giovanni Falcone poco prima della sua morte ecco sono orgoglioso di poter dire che io e il Procuratore Caffiero De Rao siamo stati a Vienna insieme e che in quell'occasione c'è stato grazie proprio all'impegno dell'Italia un passo avanti importante che consenterà di monitorare la reale applicazione della Convenzione di Palermo in tutti i Paesi e in questo l'Italia è stata davvero leader e protagonista come dico fin dall'inizio di questo mio mandato non dobbiamo più concepire la giustizia come un settore che riguarda soltanto il nostro territorio e che si sviluppa soltanto all'interno dei confini italiani la vera sfida è quella di far sì che la giustizia possa anche operare all'estero e che possa rilanciare l'immagine dell'Italia che ha un passato drammatico, tragico sicuramente ma che ha saputo tirar fuori da quel passato una normativa all'avanguardia per esempio a livello antimafia e può essere leader nella lotta alla mafia a livello internazionale ecco quello sicuramente è stato uno dei primi momenti in cui l'Italia ha portato avanti la sua capacità di essere leader a livello internazionale nelle lotte alla mafia si è detto molto sulle denunce che ci sono e che sono fondamentali per accendere un faro sui sistemi criminali soprattutto per continuare nella lotta alle associazioni mafiose ecco da questo punto di vista non dobbiamo nasconderci che poi qualsiasi denuncia mette anche lo Stato in una condizione di doversi guadagnare credibilità non soltanto nella misura in cui lo sviluppo di quell'indagine porta per esempio ad arresti ma anche nella capacità dello Stato di arrivare ad una pena ad una sentenza di condanna in termini brevi perché il cittadino quando trova il coraggio di denunciare poi sta a guardare qual è la risposta dello Stato da questo punto di vista come tutti sapete c'è un progetto di riforma del processo penale che servirà proprio a semplificare il processo a eliminare i tempi morti a far sì che ci possa essere una risposta dello Stato in tempi brevi e ragionevoli ultimo punto che mi piace affrontare io ho iniziato dicendo che dobbiamo raccontare a tutta la società quanto sia importante quello di cui stiamo parlando oggi permettetemi di dire quanto sia importante canalizzare questa comunicazione nei confronti delle nuove generazioni noi stiamo portando avanti col Ministero dell'Istruzione col Procuratore Caffiero De Rao ma anche col Presidente Cantone col Vice Presidente Ermini siamo stati al Ministero dell'Istruzione per firmare protocolli che vanno in tal senso noi dobbiamo spiegare alle nuove generazioni per esempio perché poi la criminalità organizzata è alla caccia del reclutamento di sempre più giovani c'è la relazione della Direzione Investigativa Antimafia che lancia un'allarme importante in tal senso nelle aree più povere del Paese per un ragazzo che si trova a scuola e che noi pensiamo ancora sia lontano dalla sfera dell'illegalità invece magari quel ragazzo sta vivendo in quel momento in una realtà in cui l'illegalità si sostituisce allo Stato e questo aspetto è fondamentale perché nelle sacche di povertà di questo Paese l'equazione tra povertà e sfruttamento del lavoro non è considerata nemmeno come patologica è quasi normale e noi dobbiamo raccontare alle nuove generazioni invece che cosa è il lavoro vero e che cosa può essere l'imprenditoria che cosa può essere la lotta alla criminalità lo dico perché ci credo fermamente io sono, anche se da vent'anni sono stato adottato dalla terra toscana e dalla meravigliosa città di Firenze io sono di Mazzara del Vallo la prima volta che ho conosciuto il dottor Caselli è stato in un istituto superiore della mia città quando tanti magistrati venivano a spiegare alle nuove generazioni che cosa voleva dire servire lo Stato e combattere la criminalità ecco posso dire che quella è stata la mia la base principale che poi mi ha fatto amare il diritto e la giustizia lo rivendico e per questo considero che tra i compiti principali del Ministro della Giustizia ci sia secondare anche una cultura della legalità soprattutto rivolta alle nuove generazioni grazie